Eseguire PET, esame fondamentale nella valutazione dello stato della malattia oncologica anche nei fine settimana, ridurre i tempi di attesa dei pazienti, poter giocare d'anticipo sulla malattia guadagnando tempo prezioso. Per questo il servizio di medicina nucleare dell'ospedale San Moscati di Taranto sarà attivo anche nei fine settimana. La direzione strategica aveva già attivato dallo scorso novembre il servizio nelle ore pomeridiane infrasettimanali, riducendo i tempi di attesa passando da 70 giorni a 30, con possibilità di inserire gli esami più urgenti in massimo 10 giorni. A partire dal mese di febbraio nei fine settimana sarà attivato anche il servizio di medicina nucleare all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata per ridurre maggiormente le liste di attesa dei pazienti che devono eseguire scintigrafia miocardica da sforzo e a riposo. Una risposta concreta dunque al territorio ionico.